Proseguono i controlli della Polizia di Stato per arginare il fenomeno sempre più preoccupante della vendita e del consumo di alcolici da parte di minorenni a Salerno. La Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Salerno ha proceduto nella serata del 13 gennaio al controllo di quattro esercivici pubblici e dall'identificazione di 38 persone, monitorando diversi gruppi di adolescenti che sostavano nei pressi dei locali e bar ubicati nel centro storico di Salerno, abituale ritrovo di giovani. L'attività di osservazione effettuata dai poliziotti ha consentito di appurare che erano state somministrate bevande alcoliche ai minori. Dopo detti controlli si è proceduto a deferire all'autorità giudiziaria competenti i titolari delle attività commerciali. Nel frontrempo i controlli verranno ripetuti anche nei prossimi giorni, soprattutto durante i fine settimana, per evitare che vengano somministrati alcolici ai ragazzi, che spesso si sentono male e devono ricorrere alle cure mediche per evitare conseguenze gravi per la salute.